Cosa insegnano gli elementari? Fa più o meno così Cambiando l'ordine degli addendi Il risultato non cambia Incredibile Cambiando l'ordine degli addendi Il risultato non cambia Alvini sa, paga, paga, paga per tutti Arriva Mr. D'Angelo E puntualmente siamo a commentare Un'altra sconfitta Per l'amor di Dio Niente da dire Dieci giorni di lavoro Non potevamo aspettarci Miracoli Ma gli aspetti negativi purtroppo Sono tanti Adesso andremo ad analizzarli Primo tempo dello Spezia Tutto sommato abbastanza convincente Primi minuti molto, molto buoni Dello Spezia Al primo tiro della Sampo Ovviamente prendiamo gol Gol preso Perché sostanzialmente Elia Schierato per l'occasione Come terzino, sinistro Non fa la diagonale difensiva E prendiamo gol Perché Elia Gioca terzino, sinistro Ditemelo voi Perché Rezza è infortunato Mi direte Benissimo Rezza è infortunato Una squadra normale Cosa fa? Ha un terzino, sinistro Affidabile Magari Da poter Chiaramente schierare Da follo Infatti mi avevano già detto Settimana scorsa Che il mister non era molto convinto Dei due sostituti Dietro Rezza E quindi è stato obbligato A schierare Elia Terzino Sinistro Molto Molto buono In fase Offensiva Ovviamente Non è il suo ruolo In fase difensiva E infatti lo Spezia Prende Gol Ora ditemi voi Se a gennaio Devo riporre fiducia In quest'area tecnica Che Spero Dovrà andare A rifare Completamente La squadra Ditemi voi Chiudo parentesi Perché non voglio Dilungarmi Ulteriormente Alvini Ovviamente ha pagato Per tutti Chiudiamo parentesi E guardiamo avanti C'è di positivo La mini reazione Dello Spezia Che comunque riesce A pareggiare Dopo qualche minuto E il primo tempo Scorre via Sostanzialmente Molto equilibrato Al netto di due Svarioni clamorosi Due svarioni difensivi Clamorosi Dello Spezia Dove Fortunatamente Borini In un'occasione Cigrazia Anzi In due occasioni Una Con Bertone Molto bravo A chiudere La seconda Sparando Da buonissima posizione Sul palo esterno Comunque Pareggio Che ci poteva stare Perché tutto sommato È stato Un primo tempo Equilibrato Occasioni Ovviamente A favore Dell'Assamp Però Lo Spezia Comunque Ha occupato meglio Il campo E ha avuto Un buon predominio Nel secondo tempo C'è una grande verità Che quando Kudak Si spegne Lo Spezia Fa lo stesso E Kudak Si spegne Non per demeriti Propri Ma perché Chiaramente Ha speso Molto Nel primo tempo Kudak Cala Vistosamente Lo Spezia Sparisce Completamente Si va a prendere gol Al 78esimo Con De Pauli Con un Dragoschi Sinceramente Versione portiere Più d'albergo Che portiere Di calcio E se questo È il Dragoschi Ripeto Forse sarebbe meglio Schierare Zut Si prende gol A 78esimo E lì Ti aspetti Un'altra Reazione Dal 78esimo A 96esimo E questo è l'aspetto Più grave Secondo me Visto oggi Lo Spezia Non crea Più Un'occasione Sparisce Completamente Dal campo Non crea più Un'occasione Non c'è più nulla 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 Dentro ci mettiamo Un calcio d'angolo Calciato da esposito Una delle cose più brutte Da quando segue il calcio Veramente Qualcosa che ha fatto Veramente male Al football Come dice qualcuno Ben più Elevato Di me Un calcio d'angolo Calciato Direttamente fuori Una roba Inguardabile Oltre All'ultima Punizione Al 96esimo Calciata Direttamente A fondo campo E io dico Magari meno Tocchi di suola Tacchi Esterni Durante la partita Un po' più Di concretezza E cercare Di concentrarsi Sui fondamentali Sarebbe sicuramente Più utile Per la squadra Dentro ci mettiamo Le prestazioni Inguardabili Di Nell'ordine Esposito Prestazione indecorosa Purtroppo Già contro La Ternana Avevo avuto Le convulsioni Oggi Replichiamo Però Cambio allenatore Ti aspetti Un attimino Dai giocatori Magari Un pochino più In crisi Una Una reazione Verde Ditemi voi Io Non dico nulla Antonucci È il solito Antonucci Ultra Appannato Che abbiamo visto Sotto la gestione Albini Moro Moro Ditemi voi Per fortuna Che io stasera Ho mangiato leggero Perché veramente Stanotte Se non l'avrei Fatta veramente In bianco Con due occhi Così Quindi veramente Da questi quattro giocatori Se ci si aspettava Un qualcosina in più Con il nuovo allenatore Questi sono i presupposti Ditemi voi Bene Cioè bene Male Molto male A questo ci aggiungiamo L'ingresso di Zulkowski Veramente Una roba terrificante Anche quella Cioè Ha fatto 15 falli E non ha apportato Niente E dico Niente Ma l'aspetto più grave Continua a sottolineare Che dal 78esimo Lo spezia Sparisce dal campo E non Non produce più niente Sotto l'aspetto nervoso Sotto l'aspetto del gioco Sotto l'aspetto Dell'occasione Ti aspetteresti Quanto meno Di vedere qualche occasione Per provare a pareggiare Nulla 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 di tutto questo D'Angelo All'ottantesimo Prova a inserire Crollis E quant'altro Ma questa Ripeto Purtroppo È una squadra Male assortita Una squadra Che a gennaio Deve necessariamente Essere smantellata E per provare Nella seconda parte Di campionato A portare a casa Una salvezza Che Visti Questi risultati E ripeto Visto anche lo Spezia Dal 78esimo in poi Sinceramente Mi vengono i brividi E faccio fatica A guardare Con fiducia Al futuro Ditemi chiaramente Voi qui sotto Nei commenti E niente Ripeto L'unica cosa positiva Oltre a Cuda Che si trascina Dietro lo Spezia Mister D'Angelo Che comunque Non si è abilito E ha continuato Tutta Tutta la partita Ad urlare Ma ripeto Caro mister E qui ti guardo In camera Io spero Che tu sia Attrezzato Per i miracoli E spero Che a fine stagione Tu possa diventare San Mister D'Angelo Perché Vedendo purtroppo Cos'è lo Spezia Quest'anno Caro mister Solo un miracolo Ci può salvare E ripeto Spero che tu Sia Attrezzato Per l'area tecnica Ovviamente Non mi Esprimo Ulteriormente Un'area tecnica Che tolto Il terzino Sinistro Titolare Non Mette a disposizione Un altro giocatore Affidabile Per poter Chiaramente Andare A sostituire Rezza E il mister Dopo dieci giorni Di allenamento Deve schierare Lì a Terzino Sinistro Ditemi voi Se questa è Progettazione Ditemi voi Se questa è Competenza Ditemelo voi Sotto Nei commenti E magari Cercate di tirarmi Un attimino su Perché sì Siamo qui A commentare Un altro video Amaro Vedremo se Da qui a fine anno Ormai Manca all'incirca Un mese Riusciremo Non so A commentare Una vittoria Sinceramente Oggi Io Non mi aspettavo Una vittoria Ma non mi aspettavo Neanche Una sconfitta Sarai andato Un po' più sul pareggio Il pareggio sarebbe Sarebbe stato Chiaramente Se non si fosse Preso il 2 a 1 E se lo Spezia Non fosse poi Sparito Completamente Dal campo Quindi Fatemi sapere Ripeto la vostra Altra serata amara Altro weekend amaro Cari amici Malati di Spezia E I mille Che sono andati Di venerdì sera A Genova Per seguire la squadra Incomiabili Come al solito Si sono fatti sentire Tutta la partita Cari tifosi Meritiamo di meglio La piazza merita di meglio Meritiamo una dirigenza migliore Un mercato migliore Una squadra migliore Caro mister Ripeto Spero che tu possa fare Il miracolo Fatemi sapere la vostra Qui sotto nei commenti Mi raccomando E se non l'avete ancora fatto Iscrivetevi al canale Per tirarmi un pochino su Perché anche stasera Veramente Siamo tutti sgomenti Ciao amici Nonati di Spezia Al prossimo video Sperando Nel miracolo Contro la corazzata pari Mi sento già male Al pensiero Ciao Al prossimo video